Direi che ci sono state sicuramente cose positive nella partita di Milano, nonostante non ci sia stata la vittoria. Comunque è giusto andare avanti, abbiamo sicuramente guardato gli errori che abbiamo fatto contro Milano, che ce ne sono stati, quindi la crescita è ancora tanta. Dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo continuare ad allenarci bene e domani sicuramente sarà un'altra partita importante contro una squadra che anche loro hanno perso l'ultima partita, però giocano una palla canessa sicuramente positiva. Hanno alcuni giocatori sicuramente da tenere sotto controllo e cercheremo di imporre il nostro gioco sia fisico che mentale.